Grazie a tutti. 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 Venafro, inquinamento, pure il prefetto Guercio vuole fermare i tir. Isernia, afflusso elevato e il pronto soccorso va in tilt. L'appello di Pastore, evitate l'accesso se non necessario. Sport, lupi per Francavilla, soltanto 70 biglietti. Insorge la Nord, colpo basso non ci saremo. Agnone, la FIGC, fa slittare pure il match contro il Cesena. Palla canestro, la Magnolia riceve martedì il premio dalla stampa sportiva. Il quotidiano del Molise, gum e zuccherificio, il grido dei lavoratori arriva in Parlamento. In aula, l'onorevole Giuseppina Occhionero ha chiesto al governo e ai ministeri misure urgenti. La deputata molisana fate presto, prima che sia troppo tardi. Camera, gestione acque pubbliche, regioni, critiche nei confronti del governo Conte. Isernia, nessuno vuole fare il consigliere di parità, incarico a costo zero. Carceri, scarso organico e incolumità degli agenti, situazione drammatica. Agnone, inaugurato il nuovo polo scolastico, maltempo, mini valanga si abbatte sulla provinciale. Monteroduni, il comune, è a rischio bancarotta. Griglia, Lea 2017, il ministero promuove nuovamente il Molise. La nostra sanità supera per il secondo anno la soglia minima. Battista, Roma con Lanci per il decreto sicurezza, mette in dubbio la chiusura dei bilanci. Sport, Francavilla, Lupi, solo per 70 tifosi rosso-blu. Gli ultra disertano accordo con il terzino Calzola. Isernia, Silva, scommette sui suoi giocatori, ci siamo allenati bene, siamo in crescita. Agnonese, Cesena, rinviata mercoledì 30 gennaio, sarà un mese intensissimo. Ed ora invece le testate nazionali. Il giornale Salvini ora prepara la secessione da Di Maio. Cinque stelle incomprensibili. Furia, Lega, fa slittare il reddito e va in piazza per la TAV. Effetto gilè azzurri, forza Italia al 12%. Grillo si vaccina dal grillismo convertito sulla via Provax. Firma a sorpresa il manifesto di Burioni. Baglioni, buonista, spacca la RAI e c'è chi invoca l'epurazione. La direttrice di RAI1 critica il comizio. La crescita, un misero 0,4. I veri dati che fanno paura. Previsioni dimezzate, recessione ad un passo. Fondi esentasse, bloccati i PIR, la manovra fa altri danni. Un italiano fra i 100 più grandi pensatori, il riconoscimento a Carlo Rovelli. Il Corriere della Sera, lite sulla TAV, l'asse del Nord contro i Cinque Stelle. Salvini vuole un referendum, sì delle regioni, svolta provaccini di Grillo, Di Maio irritato. Baglioni e i migranti, RAI1 lo attacca, il solito comizio. Messico, muro medievale, ma funziona. Trump al confine tra fucili e minacce. Andiamo sulla Repubblica. Lega 5 Stelle, caos totale, slittel via libera, reddito e pensioni. Migranti, RAI contro Baglioni. Un comizio. Merkel e Tsipras, sorrisi da ex-anemici. Ecco com'è cambiata l'Europa. L'inchiesta carige da Mincione a Fiorani, l'indagine top secret dei PM su manovre in borsa e scalate. La storia del sindaco che sveglia il paese, così Torremelissa ha salvato 51 curdi arrivati dal mare. Il messaggero, referendum TAV, sfida, Lega 5 Stelle. Salvini avverte l'alleato e dà battaglia anche sulle trivelle, rinvio sul reddito e pensioni. Tensione nel governo, l'Europa ha preso gli sbarchi e il caso Baglioni spacca la RAI. La conversione di Grillo, viva i vaccini ma le curve antiscienza insorgono. Zingaretti, lista aperta alle europee e il simbolo del PD non è un dogma. Far West a Roma, ucciso davanti all'asilo, scontro sulla Raggi, pregiudicato per usura, freddato da un killer mentre era con i figli, i legami con la Psinoli. Trump e migranti, stato di emergenza. Il presidente USA al confine con il Messico sul muro, non mollo. Andiamo sul sole 24 ore, risparmio, pir nel caos, emissioni bloccate. Gli operatori, chiarimenti urgenti alla riforma varata con la legge di bilancio. Addio vecchie regole ma senza le nuove verso una norma transitoria. Nel mirino l'obbligo di investimento nei fondi chiusi e nel listino AIM. Fallimentare la riforma dopo 77 anni. Il nuovo codice si punta ad anticipare le crisi estese alla platea dell'SRL obbligate a nominare sindaci. Reddito di cittadinanza, escluso chi si dimette. Lavoro a termine, la Lega pronta a ritoccare i contratti per gli stagionali. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Ramzi di Corsa, la Juve lo vorrebbe già adesso, subito, visite mediche firma. Se l'Arsenal darà l'ok, domenica i controlli di rito, ma gli inglesi vogliono troppo. Inter, qual la mano capitano, prove di intesa con Icardi. Il presidente, Nerazzurro Zhang, rassicura Maurizio. Presto ci vedremo per il rinnovo. Marotta, i tifosi stiano tranquilli. Ronaldo, accuse di violenza. La polizia USA chiede il suo DNA. Nuovi sviluppi sul caso del presunto stupro. L'avvocato di Cristiano è stato un rapporto consenziente. Iguain, il Milan, chiede lo scatto e si rivede i conti. Domani, con la Samp, il Pipita si può sbloccare. Il Viminale impone la gara col Genoa alle 15. Lega e tifosi irritati. La Roma studia come blindare Zaniolo. Ingaggio più alto, proposto un milione di euro, più bonus. Prima di salutarci, vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11, Molise Sport. A mezzogiorno, viva la musica. Alle 13, fuori menu. Alle 14, la prima edizione del telegiornale. Alle 16, Molise Sport. 17.30, Paese Mio. 19.30, una nuova diretta con l'informazione. Alle 21, contro la rovescia. Alle 23, l'ultimo appuntamento con il TG. È tutto anche per questa mattina. Grazie, come sempre, per averci seguito. Arrivederci. Grazie.